Buonasera e ben ritrovato. Buonasera e ben ritrovati a tutti voi da intorno alle 9. Scuola e aziende sempre più unite nel segno della formazione accade all'Istituto Buzzi di Prato, dove nei giorni scorsi sono stati inaugurati nuovi laboratori. Laboratori innovativi che permettono di progettare tessuti, laboratori per filatura con macchinari di alta tecnologia. Ne andiamo a parlare con i nostri ospiti, allora benvenuti al dirigente scolastico dell'Istituto Buzzi, Alessandro Marinelli. Buonasera. Buonasera. Ed è con noi anche la docente Simona Ciardi, coordinatrice del Dipartimento Tessile del Buzzi. Buonasera. Preside, partirei da lei. Ecco, oltre mille metri quadri con 30 postazioni a disposizione dei nostri ragazzi e due macchinari innovativi donati, peraltro, da aziende produttrici del nostro distretto. Poi cercheremo di capire le caratteristiche di questi sistemi. Quanto sono preziosi questi spazi? A cosa serviranno? E quanti ragazzi potranno fare esperienza all'interno di questi ambienti? Sì, devo fare una piccola premessa. La nascita del rinnovamento dei laboratori è avvenuta con il nuovo telaio Giacar che abbiamo acquistato lo scorso anno. Telaio innovativo con le nuove tecnologie che permette di dialogare dall'aula CAD del Tessile direttamente con un file a un telaio di ultima generazione Giacar. Questo poi ha dato stimolo al rinnovamento degli spazi notevoli come M3 quadra e l'idea di implementare tutti i settori produttivi della filiera Tessile ha fatto sì che il primo apparecchio è stato un filo torcitore della Gualchiere e Gualchieri. Questa novità ha incuriosito e ha stimolato il settore del meccanotessile pretese e allo stesso tempo l'azienda Pafa System con la dottoressa Francesca Fani ha accolto l'iniziativa di investire proprio sull'istituto e dotare appunto di tutte le macchine che sono nella nostra filiera produttiva Tessile sia le macchine di Gualchieri sia quelle della Pafa. Questo consentirà di poter dare l'ultima generazione tecnologica che si comanda con un'app da uno smartphone tutti i processi produttivi in tempo reale per gli studenti. Quando si troveranno ad operare in contesto produttivo i ragazzi sanno già cosa viene fatto. Possiamo dire che c'è un piccolo distretto Tessile all'interno del Buzzi ecco professoressa. Quanti ragazzi potranno fare esperienza in termini proprio numerici e su che cosa potranno allenarsi, su quali capacità? Allora si possono allenare sulla capacità creativa prima di tutto perché noi lavoriamo in un settore estremamente tecnologico ma estremamente creativo e credo che questa sia la dualità più bella che si possa avere quando siamo studenti. I ragazzi, soprattutto delle classi quarte e quinte hanno la possibilità di progettare al CAD sia i tessuti e di vederli realizzati immediatamente su questo telaio Jacquard che la scuola ha acquistato. Invece per quanto riguarda i filati lì è stata una cosa molto innovativa perché la filatura a Prato viene considerata forse meno sono molto di più le aziende che fanno tessuto e quelle che fanno filato, ma in realtà noi siamo leader mondiali nella produzione di filati di alta fantasia e a noi questo era un tassello che ci mancava e il fatto che le aziende, quindi la Gualchiere e Gualchieri e la Pafa ci abbiano dato questi due macchinari per noi è stato importantissimo. Sono due macchinari estremamente innovativi danno la possibilità di creare qualsiasi tipo di filato, fantasia si trovi sul mercato e sono in piccolo identici a quelli che si trovano nei reparti produttivi delle aziende più importanti. Quindi avere un modo per fare esperienza diretta possiamo dire. Preside, il prossimo step, lo dicevamo per completare un po' il ciclo di questa filiera interna al vostro istituto è quello di dar vita ai laboratori dedicati alla maglieria. Questo è il prossimo obiettivo, il prossimo sogno però andiamo alle origini di questo sogno perché c'è un orto didattico da cui tutto prende vita e dove coltivate che cosa? Allora, l'orto sperimentale didattico è nato in tempore Covid il Ministero dell'Istruzione a più riprese ha ovviamente incentivato le scuole per poter funzionare in modalità a distanza tutti hanno sentito parlare della DAD, DDI, didattica integrativa e in modo particolare è stata posta un'attenzione per gli allunni diversamente abili perché per loro ovviamente si poteva andare in deroga alle limitazioni della frequenza. L'idea di far nascere un orto didattico è nata appunto per questo per trovare anche una modalità di integrazione, di inclusione di tutti gli studenti in modo particolare della diversabilità e questo ovviamente era collegato agli indirizzi e all'istituto pertanto le prime attività sono state quella di creare l'orto è stato proprio un orto a tutti gli effetti con una irrigazione automatizzata quindi con delle isole ben definite quindi è stato fatto a regola d'arte e vengono prodotte fibre tessili quindi il lino e il cotone. Laboratori per maglieria quando sorgeranno e dove? Allora, nell'area della filatura nel reparto del nostro nuovo laboratorio saranno collocate nuove macchine per la maglieria e ovviamente a breve. Bene, facciamo un ragionamento anche più complessivo di ampio raggio sul comparto della moda e del tessile sappiamo l'importanza del peso specifico del nostro distretto a livello nazionale e internazionale però c'è una carenza cronica ormai da decenni di mano d'opera qualificata spesso si diceva fino a poco tempo fa che i ragazzi non fossero attratti da questo settore che dava forse poche certezze cosa ci dicono i numeri riguardo invece all'attrattiva di questo comparto nei confronti dei giovani e quali sono gli sbocchi professionali? Allora, gli sbocchi professionali sono vastissimi diciamo che da pochi giorni alcuni dati che sono usciti sulla ripresa del nostro distretto che ha superato di gran lunga la produttività pre-covid questo è molto importante perché noi pensiamo sempre che non ci rendiamo conto della grandezza e del volume della produzione del distretto pratese e il distretto pratese ha fame di figure tecniche non solo di mano d'opera ma anche di figure tecniche specializzate perché deve essere attrattivo rimanere all'interno del distretto? perché finché ci vestiremo con degli abiti fatti di stoffa noi avremo sicuramente il privilegio di poter lavorare in un settore che si rinnova continuamente abbiamo nel settore tessile circa 75 dai 75 ai 90 ragazzi si diplomano ogni anno di questi un 50% continua a studiare fanno percorsi universitari alcuni fanno anche percorsi ITS quindi istituti tecnici superiori nella nostra regione c'è un istituto particolare che è Mita che si occupa del sistema moda altri entrano nel mondo del lavoro si entra come periti tessili quindi come tecnici 10% circa nei lanifici 5% nel settore dei filati un 5% rimangono nella maglieria altri vanno ad occupare magari posizioni che potrebbero essere controllo qualità però non ci dimentichiamo ci sono tanti indirizzi scusate, tanti settori che non sono solo quelli prettamente della produzione tessile ma anche ad esempio il tessuto non tessuto oppure si può lavorare nell'ufficio acquisti di una grande azienda di un grande brand insomma ci sono non nel settore puro del tessile ma in cui le richieste legate al tessile sono appunto necessarie le conoscenze ci ha dato anche una bella panoramica riguardo insomma le possibili strade non soltanto tessile stretto ma anche cultura all'interno del vostro istituto perché state allestendo pezzo dopo pezzo un vero e proprio museo che vi permette di mettere in mostra pezzi davvero del passato di quali settori? il museo dell'istituto Buzzi è un filo conduttore continuo perché è una parte espositiva storica dell'istituto ma è anche una raccolta che viene sempre incrementata da nuove acquisizioni in base proprio alla particolare intuizione che ha un professore il nostro referente il professor Casarosa che io non finirò mai di ringraziare perché è veramente un procacciatore di pezzi storici e questo serve perché nelle classi seconde facciamo una particolare attività che è orientativa al fine di scegliere l'indirizzo al terzo anno e pertanto è fondamentale strategico dare una informazione corretta e completa di tutte le tecnologie e la loro evoluzione quindi passiamo dalla parte chimica o chimico-tintoria che è quella che caratterizza l'istituto appunto ogni oltre 130 anni di storia però c'è tutta la telecomunicazione quindi la meccanica quindi l'elettronica e le sue evoluzioni non per ultima questa acquisizione di un comodato d'uso di questa famiglia vediamo le immagini di cineprese macchine fotografiche che appartenevano ad Armando Giovannelli Sì, era un esperto di riprese nel settore medico perché era la modalità per documentare e far apprendere gli studi di medicina attraverso le immagini o i filmati o le fotografie la famiglia ha avuto questa accortezza di non smembrare tutta questa raccolta importante sia di strumenti sia anche di video di materiale fotografico cinematografico proprio per darne interezza e visibilità attraverso appunto questo comodato d'uso che è parte integrante dell'istituto un'altra parte importante è stata data al Museo del Cinema di Torino Ecco, quindi davvero oggetti preziosi che adesso potete mostrare vediamo qui anche i familiari proprio nei giorni scorsi in occasione dell'ufficializzazione di questa concessione L'appello possiamo dire quindi a tutti i pretesi che ci stanno seguendo è a non gettare via pezzi che possano essere davvero di molto valore e significato Sì, questo è importante perché talvolta ci si voglia di sfare di qualcosa che sembra ormai passato dal tempo e non più utile potrebbe essere invece un documento storico che descrive la nostra città e quindi è anche importante che possa essere anche esposto nella filiera dell'Istituto Buzzi Assolutamente sì quindi mi raccomando prestate attenzione siamo arrivati al termine della nostra puntata io ringrazio il dirigente scolastico dell'Istituto Buzzi Alessandro Marinelli per essere stato con noi e anche la professoressa Simona Ciardi coordinatrice del Dipartimento Tessile dell'Istituto Grazie a tutti voi per averci seguito buon proseguimento di serata su TV Prato arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti